Sostiene Lusi che quando nel 2007 la Margherita si dissolse in PD e AP fu ordinata una sorta di svuota alla cassaforte, gli 80 milioni arrivati dai finanziamenti pubblici e lui le tesoriere ebbe il compito di ripartire nella quota 60-40 il malloppo alle correnti popolari rutelliani. Non solo, anche i suoi celebri investimenti immobiliari, casa al centro di Roma, ville ai castelli, non erano a uso proprio ma per conto di Rutelli, che risponde paragonando l'ex amico che lui volle tesoriere ad uno storico millantatore. Farà la fine di Igor Marini, dice. Se anche la spoliazione di tutti i petali della Margherita finirà in una bolla di sapone come l'affair Telecom Serbia non è ancora dato sapere. Per adesso i magistrati, il procuratore aggiunto Alberto Caperna, il sostituto Stefano Pesci, presenti ieri alle 7 ore passa di interrogatorio, fanno intendere che l'impianto accusatorio verso Lusi, associazione a delinquere per appropriazione in debita, è confermata, che ieri ha tirato in ballo diversi ex colleghi, oltre a Rutelli, Enzo Bianco, che ci sarebbero delle testimonianze informatiche che citano anche Fioroni, Labindi, Franceschini e Marini, ma che da qui ad avere altri indagati ce ne passa. Per i suoi avvocati invece, Lusi, dopo aver vuotato il sacco, si sente più sereno. Adesso è stanco e provato, comunque sereno, risposto, determinato. Gianluca Semprini, Sky TG24. Grazie.